Di nuovo insieme con la nostra rassegna stampa, continuiamo con le notizie di quest'oggi andando sul web, in particolare sul portale iranews.it per andare a leggere dell'addio a Shimon Peres a Gerusalemme. Sono iniziate le segue sul monte Ersl Tanti, leader mondiali presenti da Obama Clinton a Carlo d'Inghilterra. Arrivato questa mattina anche Renzi, la cerimonia per le sue dimensioni ha soltanto un precedente, ovvero i funerali dell'ex premier Isaac Rabin in seguito al suo assassino risalente al 1995. I leader del mondo, dal presidente americano Barack Obama al principe Carlo d'Inghilterra, sono a Gerusalemme per le sequie dell'ex premier ed ex presidente israeliano, premio Nobel per la pace, Shimon Peres. Il premio Renzi è giunto stamane, i funerali dell'ex presidente israeliano Peres hanno avuto inizio con il trasferimento del suo feretro dalla Knesset, il Parlamento israeliano, al cimitero del vicino monte Ersl dove l'ex capo di Stato sarà inumato nel settore dei grandi della nazione. La cerimonia funebre per le sue dimensioni ha soltanto il precedente dei funerali dell'ex premier Isaac Rabin in seguito all'assassinio del 1995. Peres sarà sepolto proprio accanto a Rabin, suo ex rivale politico nel partito laborista. Le forze di sicurezza sono in massima allerta per il funerale iniziato alle 8 italiane con decine di strade chiuse ed 8 mila agenti schierati. Circa 70 paesi sono rappresentati alle sequie, un segno del rispetto che Peres, 93 anni, acquisì nel tempo passando da falco militarista a sostenitore della pace. Circa 50 mila persone sono sfilate ieri davanti alla bara di quello che è considerato l'ultimo padre fondatore di Israele esposta di fronte alla Knesset. Tra coloro che hanno porto il loro omaggio l'ex presidente statunitense Bill Clinton, visibilmente commosso, che lo ha definito un genio con un grande cuore. Clinton nel 1993 fu il promotore degli accordi di pace di Oslo tra Israele e palestinesi, che valse il Nobel a Peres, al premier Isaac Rabin e al capo dell'OLP Yasser Arafat. Obama prenderà la parola alle sequenze, insieme a Clinton, al presidente israeliano Revin Rivlin, al premier Benjamin Netanyahu e al presidente del Parlamento, Juli Edelstein parleranno anche lo scrittore Amos Oz, i due figli e la figlia di Peres. Nella sua prima visita a Gerusalemme nel 2010 presente anche il presidente palestinese Abu Mazen, l'ex presidente, ricordiamo, morto mercoledì a seguito delle complicazioni di un ictus per il quale era ricoverato dal 13 settembre. E andiamo a leggere altre notizie dall'Italia. Padovan, manovra con risorse limitate, il taglio IRPEF nel 2018 e nel crono programma, nella manovra che verrà presentata a Bruxelles il 18 ottobre, c'è il taglio dell'IRES, l'introduzione dell'IRI per gli artigiani e misure a sostegno della crescita. Così, il ministro dell'economia Padovan alla stampa, parlando della manovra, che ha risorse limitate, perché il grosso lo useremo per evitare l'aumento di IVA e accise. Con l'Unione Europea la partita è ancora aperta, ma resteremo nei parametri previsti. Io, successore di Renzi, ha risposto no, col premier normali incomprensioni, ma non sono un politico. La cronaca, appalti arresti in un comune del Casertano. I carabinieri della compagnia di Maddaloni nel Casertano stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerosi indagati, tra cui il sindaco del comune di San Felice a Cancello, altri appartenenti all'amministrazione comunale, diversi imprenditori e destinatari dell'ordinanza, sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere, corruzione, concussione, finanziamento illecito ai partiti, turbata, libertà degli incanti e truffa. Continuiamo con le notizie di quest'oggi, andiamo a leggere un'altra notizia di Cronaca. A Napoli, recuperati due quadri di Van Gogh rubati, erano stati trafugati da un museo di fama mondiale. Vi sono quindi anche due quadri di Van Gogh, definiti di valore inestimabile, i tre beni ritrovati nell'operazione della Guardia di Finanza, che ha seguito a Napoli un sequestro patrimoniale per diverse decine di milioni di euro nei confronti di un'associazione camorristica dedita al traffico internazionale di cocaina. Tra i beni sottoposti a sequestro, come abbiamo anticipato, anche questi due dipinti di valore inestimabile trafugati da un museo di fama mondiale. Proseguiamo la nostra rassegna stampa con il commento di altre prime pagine. Andiamo allora sul messaggero per le notizie che troviamo in apertura. Vediamo, ovviamente, il messaggero pone attenzione sul caso Muraro che si aggrava. La procura accedera a nuove accuse all'assessore, indagata con un imputato di mafia capitale. L'Olimpiadi, il Campidoglio ratifica il no. A Roma 2024, Bagar in aula, il sindaco nel frattempo perde i pezzi. Si aggrava quindi il caso dell'assessore all'ambiente del Comune di Roma, Paola Muraro. La procura accedera con l'inchiesta coinvolto l'ex direttore generale di Ama, Giovanni Fisconi, imputato nel processo a mafia capitale per entrambi del reato ipotizzato e l'abuso d'ufficio. Intanto il Consiglio Comunale ratifica il no alle Olimpiadi, mentre nell'aula scoppia la Bagar. Durafondo di Renzi, figuraccia internazionale per il Premier e il sindaco Virginia Raggi perde i pezzi. Lascia anche il ragioniere generale del Campidoglio. E Virginia sorride mentre va in scena lo schiaffo capitale. L'ultima beffa scrive Mario Aiello. Il CONI non molla sulla questione Olimpiadi. Dopo la regione la sponda del CIO Giovanni Malagò non alza bandiera bianca rispetto del no. Il Consiglio Comunale, il Presidente del CONI, cerca ancora il modo di tenere in vita il sogno olimpico di Roma 2024. Il ex sindaco Marino, processo Scontrini e Donlus, chiesta condanna a tre anni. Il Comune pretende 600 mila euro, quindi si chiude con una richiesta di condanna che non lascia spazio alle interpretazioni. La vicenda tormentata dell'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino. Battaglia statale, battaglia su 700 milioni, contratto in salita. La cifra che il Governo è disposto a mettere in campo, ma i sindacati potrebbe non bastare. Il rinnovo del contratto degli statali dopo sei anni di blocco sembrerebbe in dirittura d'arrivo, ma sul tavolo il Governo è disposto a mettere risorse per 700 milioni di euro, una cifra ritenuta bassa dai sindacati. L'Aran, che si occupa della trattativa, riferirà al Ministro della Funzione Pubblica, Mariana Madia. La prossima settimana resta il nodo dei premi. L'allarme Deutsche Bank, terremoto in borsa. Ci prova la Deutsche Bank a buttare acqua sul fuoco, ma i timori sono pesanti. C'è spazio sulle messaggero anche per lo sport, con la partita della Roma in Europa League. Riscatto giallorosso, tre gol ispirati da Totti. Poker della Roma ai romeni dell'Astra. Giorgio finisce 4-0 la partita. In fine taglio basso, aspettativa di vita superata la Svezia. In Italia sempre più ultraottantenni ed è primato europeo. Passiamo dal messaggero a Il Giornale. Preavviso di garanzia al PD di Renzi. Guai giudiziari in vista. L'avvertimento di Davigo. Presto processi sulle primarie. Il referendum. Il Premier cerca voti. A destra e la sinistra va in tilt. Questo è il titolo principale sul giornale. Poi la lettera a reportage di Toni Capuozzo. Carlo Berlusconi. Le spiego perché si merita un grazie. Dopo che l'ex Premier italiano ha compiuto 80 anni nella giornata di ieri. Se ne va anche il ragioniere. La Roma della Raggi ha già bruciato 48 milioni. E poi Banca e Furbette stangata sui conti correnti. Scatta l'indagine di Banca Italia. Ritiro anticipato gratis. La riforma pensioni sarà una lotteria. I soldi non bastano. Altri titoli su Il Giornale. La strage di massa del 44. Vino bianco e Brahms. Così il boia nazista. Uccideva gli italiani. Un caso di mala giustizia a capo. All'agonia infinita imposta per legge. Il peso di analisi a Chirico. Infine in taglio basso. Parla Minoraio la 360 gradi. Studio le scimmie per vendere meglio i calciatori. E l'intervista al arcinoto agente di calciatori Mino Rariola. Con quest'ultimo titolo ci fermiamo. Un altro piccolo break per noi. Poi ci occuperemo in particolare di Roma e dintorni. A fra poco. Grazie. Grazie. Grazie.